è una battuta oh grazie babbo natale cazzo felippo mi ha dato due scudini e uno scudone si grandissimo felippo è un grande questo felippo dai no che cazzo ragazzi io seguo felippo mi ispira è andata questa partita se la vinciamo se la pubblicata cazzo no cazzo raga che caduta brutta e che lo vuole no 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 non c'è nessuno raga diamo in safe che dite non possiamo manco usare per le scale cazzo chi è che spara chi è che spara è philip che cosa vuole hai tanti di trasporto philip venite qua venite 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 ah che vieni e beh spacchiamo tutto a pinnacoli dai che cazzo Non ci sono già passata la forza. che cosa no non sento nulla ragazzi c'è gente che sta distruggendo nord-est ragazzi siamo troppo distanti porco zeus non siamo lo stesso palazzo adesso si c'è qualcuno è entrato qua qualcuno qua ha messo un dato non lo stesso palazzo non lo stesso palazzo ok che spara attenzione che stanno sparando lo giallo ah scusa scusa non ti ho visto proprio ti giuro si è alloggato tutto ce l'hai medica tieni 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 ho le bende prendi le bende qui ci siamo fatti tutti la sopra grazie come stanno là? non c'è chi è metto che è andato ok pistola pesante no no è vero Pino volta No, è finire E dai No, è in quello Può essere una trappola Ragazzi, attenzione al nord-est Ragazzi, attenzione, sono sparando Sono montagna Nel nord-est, nel nord-est, sono montagna Nel nord-est Ok, presenti Vieni cerchino L'ho visti Non riesco a vederti manco Ah, sono lì Ragazzi, hanno i palloncini, attenzione Ragazzi, insieme Ah, c'è uno schieno qui L'ho detto Ok Dai, 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 dai Come? Ragazzi, ma che c'è che? Non c'è sonoro Ragazzi, ma sono solo in 11 Ma questo com'è? E' un nabbo Questo ho visto un nemico, ragazzi Questo ho visto un nemico, secondo me Ma che stai a dire? Io Sì ragazzi, eccoli Sud, sud, sud Sud Sì, penso di sì Se non mi prendo una laufunivia Nel centro Sì, ecco li vedo Sud Ok, ragazzi diamo in safe fra pochissimo Ricordatevi Niente, niente Cazzo no Non vengo preso Se ce la faccio, aspetta Ah si, sta questa, questa qui Ok, vedici una mea hacker Sta qui o giù Oh, Philip ha fatto una kill Philip ha fatto una kill Grande Philip Ok, dai, addosso, sulle funi via 4 contro 4, dai, ce la facciamo, dai No dai, no dai Cazzo No, no, cazzo, no, non materiali, non materiali, cazzo, non materiali Mi sto curando intanto Ragazzi da me, da me, da me Ragazzi da me, da me Da me, da me, da me Ragazzi da me Non importa, non importa, ho sbagliato, io non ho materiali Va, Philip l'ha ucciso Non ci credo E' uno, è uno E' uno, secondo me Perché dopo uno li asserza Grandissimo, ma Philip è un mostro Dai, raga, questa la pubblico, dai Con onore No, 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 mi sa che ci puoi da sei No, 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 no C'è la prima mia, Alessi Eh, ma io dico questo perché non è materiale da vincerà philippo per noi seguiti philippo è logico sicuro ha sparato anche philippo lì perché philippo ha sparato lì sta andando philippo sento questo 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 qui no no philippo è morto ragazzi lo fate vincolare attenti alla safra grande agar bello ragazzi mi piaccio bello ragazzi mi piaccio